benvenuti su tg7 basilicata concluse le due giornate europee del patrimonio a venosa nella suggestiva cornice del castello pirro del balzo organizzate dal rotary club venosa in collaborazione con il mic museo archeologico nazionale parco archeologico di venosa e il club unesco del vulture con il patrocinio della regione basilicata dell'apt basilicata umpli basilicata e città di venosa grandi ospiti hanno arricchito i due appuntamenti una vera esperienza culturale che ha evidenziato innumerevoli spunti e riflessioni sulle identità storica di venosa non solo patria di orazio ma culla del medioevo obiettivo centrato ci dice francesco caputo presidente del rotary club venosa con le jepp si riesce a rafforzare la fruizione delle bellezze del nostro territorio attraverso la trasmissione delle conoscenze creando occasioni di partecipazione e condivisione di straordinario interesse le relazioni dell'archeologa tonia giammatteo sul complesso della trinità di venosa tra reimpiego e incompiuta e del professore ordinario di archeologia medievale dell'università del salento paul arthur il patrimonio invisibile dell'italia bizantina in questa prospettiva i luoghi della cultura sono chiamati a giocare un ruolo di primo piano essendo il patrimonio storico artistico veicolo di conoscenza del passato di riflessione sull'attualità di ispirazione per il futuro commenta franco perillo presidente del club unesco del vultore tantissima partecipazione per l'apertura straordinaria dell'anfiteatro romano parco archeologico incompiuta e al rinnovato e innovativo museo nazionale archeologico mario torelli mostra di libri fumetti e giochi sulla storia medievale a cura della proloco di castella gopesole hanno interessato i presenti soprattutto i più piccoli a cui è stata dedicato uno spazio tutto per loro interessante il tema affrontato nella seconda giornata il valore del patrimonio attraverso l'accoglienza con gli interventi sulla narrazione storica per l'inclusione territoriale di marcello romano manager delle attività culturali e il valore dell'identità dei territori dal presidente regionale umpli basilicata rocco franciosa che ha sottolineato come sia prezioso il ruolo delle associazioni con gli enti e le università per dare slancio alla promozione e fruizione del patrimonio